buona giornata amici da fano tv oggi è martedì 25 ottobre 2022 questa è la rassegna stampa con la quale iniziamo le trasmissioni del giorno leggendo i giornali il resto del carlino e il corriere adriatico con cronaca locale partiamo come sempre con l'almanacco e vediamo chi sono i santi del giorno perché oggi sono due una coppia di sposi eccoli qui nella grafica si tratta dei santi crisante ed aria marito e moglie nobili sposi romani vissero durante l'impero fattisi cristiani autore furono autori anche di numerose conversioni arrestati fu imposto loro di abbiurare la loro fede ma di fronte al loro deniego furono arrestati torturati e uccisi lapidati in un modo cruento ovvero interrati prima fino al collo e poi uccisi a suon di sassate insomma una morte veramente terribile ma furono incrollabili non rinunciarono mai alla loro fede i santi crisante ed aria ed ora vediamo le previsioni del tempo per vedere come si evolve la giornata di oggi una situazione io ripeto ormai da tempo questo aggettivo stabile una situazione stabile giorno dopo giorno sulla regione tra sole e nuvolosità una nuvolosità medio alta stratificata le massime le temperature massime si aggireranno sui 24 27 gradi le minime non giungeranno oltre alle 19 i 20 ispireranno moderati sull'appennino sulle coste medio da una tensione media di nord nord est all'interno debole da sud ovest il mare è mosso anzi un'attenuazione rispetto a ieri diciamo poco poco mosso questo è un po un quadro per quanto riguarda le previsioni del tempo ma diamo un'occhiata anche ad un'immagine del nostro territorio e oggi la regia ci propone il litorale di porto san giorgio vediamo che ancora è un po buio sì il sole infatti non è sorto perché sorgerà alle 7 e 35 e tramonterà alle 18 08 appunto di oggi pomeriggio e vediamo ora le notizie del giorno eccole sulle prime pagine dei giornali a partire dal corriere adriatico la pagina di fano una bella fotografia che ci mostra il pienone che si è verificato alla rocca malatestiana in occasione del mega concerto che si è svolto per accogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate concertone tutto perfetto tutto è andato secondo le intenzioni secondo i programmi ora possiamo replicarlo sì perché dopo tanta affluenza la rocca addirittura era piena colma di gente che è corsa a ascoltare i gruppi locali che si sono esibiti così tanto per beneficenza si può replicare perché le necessità poi sono tante e soprattutto le esigenze di chi si trova in difficoltà possono trovare una bella risposta con questa manifestazione è l'auspicio del sindaco massimo seri e degli organizzatori al lavoro sono stati 50 i volontari ebbene troppo bella troppo bella la maratona di musica e di solidarietà alla rocca malatestiana di fano perché rimanga un fatto isolato dice osvaldo scatassi nel fare la recensione di questo evento un appuntamento fisso aveva detto il sindaco massimo seri l'altro ieri sera davanti al pubblico che gremiva il prato della fortezza dunque probabile che si recupererà e qual è l'esito di questa manifestazione ebbene sono stati strappati più di 2000 biglietti e quanto hanno riferito alla cassa della rocca malatestiana domenica dopo le 23 nel momento in cui non si staccavano più biglietti trattandosi di una donazione sono state rilasciate delle ricevute per l'ingresso erano richiesti 10 euro e l'incasso dovrebbe avere superato i 20 mila euro una bella cifra che verrà data appunto a chi ha bisogno un risultato superiore alle aspettative essendo la prima volta con il coinvolgimento di 50 gruppi musicali e artisti che questa iniziativa è stata organizzata ma non è solo Fano che si è attivata perché vediamo che anche terre roveresche lo vediamo qui in questo articolo di spalla terre roveresche si è organizzata per una passeggiata di vicinanza agli alluvionati ed erano in 200 quelli che hanno partecipato anche in questo caso sono stati raccolti 800 euro grazie all'impegno dei vari sodalizi ebbene ogni iniziativa a parte la cifra che viene raccolta è importante perché oltre al contributo economico c'è l'adesione umana ai problemi ai danni che hanno subito queste persone durante l'inondazione del 15 settembre scorso ed ora diamo un'occhiata anche ai conti della fondazione Carifano perché domenica scorsa si è svolta l'assemblea dei soci e oltre all'ingresso di nuovi soci di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri oggi il presidente Giorgio Gragnola ed il segretario Vittorio Rosati hanno presentato il bilancio preventivo per il 2023 e quello triennale 2023 2025 erogazioni 4 milioni disponibili per un triennio dice il titolo per quanto riguarda invece il 2023 quindi un bilancio preventivo annuale la somma che verrà suddivisa nei settori di interesse statutario ammonta a 1.325.000 euro i settori statutari sono quelli della sanità della famiglia della beneficenza dell'ambiente insomma quelli tradizionali in cui la fondazione eroga i suoi contributi dunque è tempo di impostare le erogazioni per il prossimo anno da parte della fondazione e su questo articolo vediamo come sono stati suddivisi i fondi disponibili per venire incontro alle esigenze della città motore del camion a fuoco galleria chiusa per il fumo un incidente che si è verificato ieri nella galleria di Fossombrone disagio per oltre un'ora sulla superstrada al furlo nessuno resta intossicato invasa dal fumo della galleria della superstrada al furlo di Acqualagna a causa del fuoco che ieri intorno alle 16.45 ha avvolto il motore di un camion con veramente un problema anche per quanto riguarda la visibilità ma anche la densità del fumo che poteva provocare problemi di intossicazione e vediamo ora invece la pagina della Val Cesano abbiamo un articolo che riguarda San Costanzo si parla sempre del caro vita del caro vita un altro esempio in più per quanto è difficile che le persone riescono poi a rincorrere l'aumento delle bollette bolletta della luce da 455 euro siamo alla follia e per il gas ancora di più forse è quindi un punto interrogativo di sospensione è la protesta di un commerciante di Mondolfo e intanto a San Costanzo si inaugura un centro estetico è la protesta di Mario Tarini un pensionato e titolare insieme al figlio di un negozio di abbigliamento in via Cavour a San Costanzo a fronte di una pensione che supera di poco le 800 euro Tarini ieri si è recato all'ufficio postale di Mondolfo per una bolletta della luce di 450 euro una metà della sua pensione solo per la luce e vediamo che di questo passo ovviamente non si può andare avanti sulla pagina di Senigallia un articolo che riguarda il delitto in cui è rimasta uccisa una donna soffocata dal marito morta soffocata dalla mano del marito il giudice Giuliani resta ai domiciliari Giuliani e il marito arresto arresto convalidato per il dramma di Filetto la località dove è stato compiuto il delitto l'accusa è di omicidio pretere intenzionale confermata la misura dunque è stato convalidato l'arresto di Marino Giuliani accusato di omicidio pretere intenzionale per la morte della moglie soffocata venerdì mattina a Filetto nella loro casa in strada della foresta ieri mattina il tribunale di Ancona ha confermato per il 79enne i domiciliari per due mesi per evitare l'inquinamento probatorio e la tesi della difesa è quella che l'uomo ha posto una mano davanti alla bocca della moglie che urlava era soggetta ad una malattia che la così la costringeva a emettere questi segni vocali e l'uomo per zittirla appunto l'ha messo la mano davanti alla bocca e poi l'ha trattenuta più a lungo del dovuto colpevoli della morte di Meddi 14 anni al pusher due all'amica ebbene Meddi è la figlia del medico eroe Carlo Urbani si tratta di una vicenda processuale che si svolge a Roma omicidio di Maddalena Urbani due le condanne ieri mattina alla corte di assise di Roma si è concluso così il processo per l'omicidio di Maddalena che aveva 21 anni e quando è deceduta a causa di una overdose è stata trovata morta in un appartamento sulla Cassia alla periferia di Roma il 27 marzo del 2021 Maddalena come Maddalena è stata uccisa da una overdose fatale di droghe e farmaci ma anche dal colpevole ritardo con il quale sono state chiamati i soccorsi ecco perché sono stati condannati i proprietari dell'appartamento appunto che erano nel luogo ed ora vediamo invece le pagine che il Corriere Adriatico dedica a Pesaro dove debuttano le eco isole e da qualche giorno che si parla di questo nuovo metodo di raccolta differenziata nel capoluogo pesarese sono dei cassonetti dotati di una scheda che permette di aprirli e quindi di versare in maniera in maniera così organica i rifiuti all'interno di essi debuttano le eco isole ma sono ancora molte le tessere da ritirare i cassonetti della plastica sono quelli più utilizzati in centro è attivo l'infopoint per informare ma soprattutto per aiutare gli utenti a servizi del nuovo servizio dunque è ufficialmente partita la sperimentazione della nuova raccolta differenziata in eco isole della ztl del centro storico di Pesaro gli utenti hanno debuttato ieri mattina quando in diversi hanno scelto di provare il nuovo meccanismo automatizzato e di sfarsi dei rifiuti più voluminosi accumulati in casa nel fine settimana tutto sotto l'occhio vigile del sindaco che personalmente Matteo Ricci ha voluto presenziare a questa operazione per vedere insomma si verificavano degli inghippi nascevano dei problemi e beh tutto sembra che sia funzionato a dovere e quindi questa cosa potrebbe essere ampliata anche ad altre zone della città di Pesaro mentre Fano si appresta a sperimentare un esperimento simile a San Costanzo per poi magari ampliarlo anche in altre località un murale contro lo smog e le discriminazioni sociali quando si dipinge in questo modo i muri della città è una bella cosa quando si imbrattano con le scritte spray è una brutta cosa un murale contro lo smog e le discriminazioni sociali tante le mani diverse tra loro che si stringono che si che vengono a contatto che amano unire la loro diversità e questo il simbolo di unità e coesione contro ogni genere di intolleranza e discriminazione che emerge dal murale che è stato dipinto in via Rossi in via Rossi si tratta di un murale che è nei pressi del sottopassaggio ferroviario all'inizio appunto di via Rossi intitolato il filo d'Arianna promosso da GTI Italia e Save the Planet Onlus realizzato in collaborazione con l'Archie Gay l'opera è realizzata materialmente dallo street artist Mirko Cavallotti insomma una bella iniziativa che dà un tocco di colore ma anche di significato a questa via della città Spaccio rissa tra bande per il controllo l'aspirante Trappel è arrestato per droga si tratta di un 25enne che è finito in carcere a conclusione di un'indagine della squadra mobile sullo smercio di droga al Mirafiore ha 25 anni ed è regolare sul territorio italiano lavora come operaio gli agenti della squadra mobile di Pesor a conclusione di un'attività di indagine l'hanno arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e poi vediamo ancora l'immagine del presidente della provincia Giuseppe Paolini che è alle prese con il caro Bolletti in modo particolare delle scuole di sua competenza Bolletti è sciocchi, la provincia convoca i presidi per decidere dove tagliare ebbene l'appuntamento è per domani mercoledì 26 ottobre alle ore 12 in provincia i presidi dovranno così decidere insieme al presidente quale iniziative prendere per cercare di fare quadrare i conti e quali sono le soluzioni sul tappeto? ebbene sono diverse si tratta di fare le aule più fredde termosifoni spenti alle ore 17 oppure la settimana corta una didattica a distanza il blocco dell'attività pomeridiana collegi dei docenti e riunioni con i genitori online chiusura di alcuni spazi palestre a ranghe ridotti disponibili solo per gli studenti e non anche per il pubblico per gli altri cittadini ebbene alcune di queste iniziative sono già state contestate sono già state scartate ma qualche decisione pur bisognerà prenderla perché poi alla fine quello che conta è arrivare al pareggio di bilancio l'ATS è un'incognita nel limbo oltre 100 figure della sanità i sindacati vanno in pressing sulla regione vogliono risposte certe o sarà mobilitazione ebbene più di 100 figure sanitarie sono in scadenza e nessuna comunicazione sul budget i contratti il tetto di spesa del personale è giunto dalla regione ed ecco perché i sindacati insistano per avere chiarezza e per cercare appunto di tutelare le figure professionali ancora suo pesaro vediamo un ritorno sul funerale di Elvidia Ferracuti la nota cantante definita la rosina delle Marche per le sue interpretazioni del barbiere di Siviglia dai tanti successi la vita silenziosa è stato un po' il contenuto della omelia del sacerdote che ha celebrato i funerali appunto della cantante si era ritirata in silenzio nella parte terminale della propria vita aveva coltivato la sua passione aveva addirittura preordinato tutto la tomba il funerale eccetera sapeva che la sua carriera la sua vita ormai è raggiunta alla fine un'ultima notizia sul corriere adriatico la vediamo da Urbino il turismo fa sorridere il commercio ma l'autunno dei rincari è un rebus nella città ducale molti esercenti ancora sulla scia della bella estate questo clima dolce ancora invita la gente ad uscire in maniche corte insomma è un clima un po' strano un clima che prolunga la stagione estiva oltre l'autunno però insomma all'orizzonte c'è il caro bollette che guasta un po' la vita un po' a tutti perché c'è preoccupazione c'è ansia e ci sono poi reali difficoltà che già si sentono e già la gente le vede incombere sulla propria testa ed ora diamo una cata invece al resto del carlino dove si parla diffusamente delle decisioni assunte dalla fondazione Carifano per quanto riguarda la costituzione del bilancio preventivo abbiamo detto il triennale e il bilancio del 2023 più risorse ad ambiente e istruzione la parte del leone per l'istruzione ebbene le erogazioni nei vari settori si aggirano da 200 mila euro a 275 mila euro questa è la cifra minima è la cifra massima che viene erogata poi abbiamo anche un'altra cifra più bassa che è 100 mila che viene erogata all'ambiente in questo articolo di Spalla invece si dà notizia di una iniziativa di un convegno interessante un convegno di archeologia che si svolgerà a Fano il 28 di ottobre alle 9 del mattino dalle 9 del mattino alle 17 e 45 è una giornata di studi dedicata alla memoria della professoressa Valeria Purcaro che era insegnante di archeologia all'università di Urbino nota studiosa della città molte le sue opere per quanto riguarda gli studi sull'arco di Augusto sui mosaici della città sulle scoperte di una Fano romana che ancora misteriosamente è nascosta nelle viscere della città il centro studi Vitruviani organizza questa iniziativa sono molti i relatori che si susseguiranno per tutta la giornata con temi di carattere nazionale ma anche di carattere cittadino si parlerà si parlerà di tante tante scoperte di tante risorse che l'archeologia ancora ha e non sono molto conosciute per quanto riguarda l'antica Fanum Fortuna le altre notizie che riguardano Fano ci sono polemiche per quanto riguarda lo sfratto dato ai ragazzi dell'AGFI che hanno la sede in via Froncini la vediamo qui in questa fotografia dall'opposizione alla maggioranza sono diversi gli esponenti politici che si schierano dalla parte di dieci di questi dieci ragazzi che non vorrebbero andare da un'altra parte sono in centro storico facilmente raggiungibili una bella sede che non dovrebbe essere così chiusa per loro perché tanta fretta contestano la decisione assunta dall'ambito l'UDC Movimento 5 Stelle Azione e noi giovani vediamo ci sono forze politiche di maggioranza e forze politiche di opposizione ebbene questi operatori gestiscono l'assegnazione per feste e compleanni della casetta degli scout e del parco di via Mattei insomma una bella una bella organizzazione per una sede in centro storico nei pressi dell'assessorato all'urbanistica in via Froncini ecco le scuolabus con i pannelli sul tetuccio un risparmio per quanto riguarda le spese del trasporto a terre roveresche la presentazione è avvenuta ieri per quanto riguarda questo autobus lo vediamo qui nella fotografia non si risparmia tanto circa 31 euro al giorno però 31 euro oggi 31 euro domani insomma alla fine si risparmia una bella cifretta e qui 31 euro è il costo quindi voglio dire una una iniziativa che probabilmente potrà essere replicata ogni euro uno speso può essere destinato per un altro servizio sul territorio doppio tamponamento a catena in autostrada tre sono stati feriti l'incidente si è verificato ieri a Marotta spettacolari soccorsi un medico addirittura si è calato dall'elicottero sulla strada perché non c'era il modo di far atterrare l'elicottero nelle vicinanze e poi il resto del Carlino parla di un lutto si è spento da un sesto biondi a Pergola era sacerdote da 40 anni aveva 79 anni domani alle 15 nella concattedrale di Pergola si svolgeranno le esequie sono attesi molti fedeli perché molto ha operato questo sacerdote e molto è stato amato a Urbino assistenza anziani a casa ora la legge aiuta davvero ed Elisabetta Foschi che evidenzia l'ultimo atto del governo Draghi un atto molto importante adesso sarà infatti possibile migliorare l'efficienza e la qualità delle cure domestiche con risorse che possono essere impiegate nel settore infatti una delle ultime attività approvate dal governo Draghi è stata la legge delega per l'assistenza agli anziani una legge di rilevante importanza perché ha come primo obiettivo lo scopo di migliorare le condizioni delle persone anziane che vivono sole e non sono più autosufficienti quindi un aiuto sostanziale alle persone più fragili e poi abbiamo qui una rivalza degli ambientalisti ci sono colpe che non abbiamo ora basta le associazioni ambientaliste marchigiane replicano ai gestori degli impianti sciistichi si dicono falsità e i problemi rimangono affermano appunto gli ambientalisti vediamo anche nella pagina di Fossombrone reperibilità per il 118 ecco come funziona ne parla un dipendente della sanità di cui però non viene fatto il nome spiega quest'ultimo come sono organizzati gli equipaggi nella nostra provincia il problema della copertura dei turni vediamo che in questo articolo viene proprio menzionato un po' tutta la metodica con cui viene assicurato il pronto soccorso anche il resto del perlino parla dei cassetti dei nuovi cassetti della raccolta differenziata una tessera magica per buttare la spazzatura residenti in fila a caccia della carta smeraldo è necessaria per aprire i cassonetti ed è collegata a ogni singola utenza il metodo anche qui vediamo anche un po' diversi giudizi che vengono espressi intorno a questo metodo ebbè è una notizia questa che ha fatto scalpore un po' in città e rivoluziona la vita quotidiana siamo ormai in conclusione vediamo come i privati in sanità costituiscono un affare da 86 milioni i medici lo sappiamo sono introvabili cosa fa l'organizzazione della sanità elabora un maxi appalto per il pronto soccorso sono quelli gestiti dall'Azur bisogna coprire 680 turni al mese sono veramente molti e quindi si ricorre ad un altro maxi appalto pubblico per affidare a medici esterni questo importante servizio e poi vediamo una notizia che riguarda in modo particolare i residenti a Villa Fastigi attraversamento ciclopedonale Villa Fastigi ha strappato il sì passaggio in sicurezza sulla Monte Labattese era molto molto importante per la sicurezza delle persone il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di Dario ma non finisce qui perché c'è stato anche un disco verde per la riqualificazione dell'area produttiva ex-nava da anni in stallo e quindi un progresso per quanto riguarda queste due esigenze vediamo ancora un articolo che riguarda saltiamo quello di Elvidia Ferracuti ne abbiamo già parlato e vediamo invece come si parla si parli di un'altra notizia di cronaca storia finita lui non si rassegna aggredisce la ex in discoteca lei 30 anni voleva farla finita lui non si rassegna nel pieno della serata in discoteca reagisce nei confronti della donna le strappa il cellulare la butta per terra e ovviamente lei lo denuncia ed ora dovrà rispondere davanti al giudice di rapina appunto per la sottrazione del cellulare siamo in conclusione vediamo qualche notizia di sport visse grigia sassarini cerca di ridarle colore la notizia è sul resto del carlino ritmi bassi e gioco prevedibile tocca un bisogna così reagire dare uno sprint a questa squadra un pizzico di novità la portata borsoi ma è chiaro che i biancorossi servirà il mercato mentre per quanto riguarda il fanocalcio Zanna Zanni guarda avanti che sfida con Casolla ebbene il ventene Granata archivia il pari con Termole e ora guarda all'Avezzano la prossima partita è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 intanto vi auguro buona giornata grazie a tutti